Abbiamo fatto nel complesso una buona partita, davanti avevamo la squadra secondo me più forte del campionato però l'abbiamo sfidati viso viso, come si dice, e dobbiamo rammaricarci quei 10-15 minuti che sono una costante da inizio anno, bisogna migliorarci sotto questo aspetto perché se no una squadra come l'Inter ti fa male. Al netto degli errori e degli episodi che possono capitare, soprattutto contro una grande squadra ti chiedo, te lo chiedo in maniera secca, è questa la strada giusta? Sì, la strada giusta è quella che dice il proprio allenatore. Il mister De Rossi è arrivato, ci ha dato le sue idee e noi calciatori cerchiamo di capire quello che ci chiede e di metterlo in campo e poi le partite cerchiamo di farle sempre al massimo. Grazie a tutti.